Cucu Ma che stai a fare? Niente Che fai? Non si salutano più le vecchie amici Buonasera Nando Oh, mi devi chiamare Burdog, che voglio una cosa da te Quello che vuoi signor Burdog, che è l'orologio? Niente di tutto questo, mi serve te, professore Mi devi imparare a fare la fine E pure le buone maniere Guardi, io sono onoratissimo di questa sua proposta Onoratissimo, diamine Sono anche molto felice che lei abbia pensato a me Ma purtroppo io non sono un umanista Comunque grazie Mi dispiace un botto che non sei un umanista Anche se manco so che vuol dire Però sei l'unica persona che conosco con uno straccio di cultura Per cui tu adesso mi dai lezioni Se non mi tocca massacrare Fa un potete Fa un potete Grazie 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 Grazie